Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Misericordia del mio Dio, abbracciateci e liberateci da questo flagello. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Eterno Padre, segnateci con il sangue immacolato del vostro agnello, come segnaste le case del vostro popolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Sangue preziosissimo di Gesù, nostro Redentore, gridate ed innanzi all'Eterno Padre, misericordia per noi, e liberateci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Piaghe del mio Gesù, sorgente di amore e misericordia, parlate per noi propizie, al Divin Padre Celeste, e liberateci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Eterno Padre, Gesù è nostro, pur nostro, è il suo sangue, con i suoi meriti divini, che noi tutti a voi offriamo. Se dunque l'amate, e vi è carissimo un tal dono, dovete liberarci, e senza dubbio, noi lo speriamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Eterno Padre, voi non volete la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Fate, per misericordia, che noi viviamo, e siamo vostri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Sia sempre benedetto e ringraziato Gesù, che con il suo sangue ci ha salvati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. O Maria, Madre di Misericordia, parlate per noi, e saremo salvi. Maria, nostra Avvocata, parlate per noi, e saremo liberi. Il Signore, giustamente ci flagella per i nostri peccati, ma voi scusateci, che siete nostra Madre pietosissima. Maria, nel vostro Gesù e in voi, abbiamo posto tutte le nostre speranze. Non fate, che restiamo delusi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, Esudi, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.